Albano Carrisi, una leggenda della musica italiana, recentemente ha fatto parlare di sé per una storia che sembra uscita direttamente da una sceneggiatura cinematografica. Tra le pieghe della sua vita privata, arricchita da un vasto repertorio musicale e una presenza scenica inconfondibile, emerge una narrazione che sfiora l'incredibile, la possibile esistenza di un figlio segreto. Prima di proseguire in questa intricata vicenda, ricordo a voi, cari spettatori, l'importanza di iscriversi al canale. Il vostro supporto è cruciale per noi, permettendoci di continuare a portarvi storie affascinanti e momenti di approfondimento unici nel loro genere. Iscrivetevi ora per rimanere sempre aggiornati. Recentemente, l'attenzione mediatica si è spostata su un uomo di 38 anni, conosciuto come Albanino, che sostiene di essere il figlio non riconosciuto del famoso cantante. La sua apparizione televisiva e le somiglianze fisiche e stilistiche con Albano hanno alimentato un dibattito che va oltre la semplice curiosità. Questa storia ha catturato l'immaginazione del pubblico, generando domande e teorie in una comunità ben più ampia dei soli fan della musica italiana. Le immagini e i video che mostrano Albanino avvolto in una sciarpa e indossando un cappello, in un modo che ricorda da vicino lo stile di Albano, hanno conquistato la rete. Questa presunta somiglianza non solo ha innescato speculazioni, ma ha anche amplificato l'interesse intorno a questa vicenda, spingendo molti a chiedersi. Siamo di fronte a una rivelazione shock o a una mera coincidenza? La situazione solleva interrogativi profondi sul confine tra vita pubblica e segreti privati. Cosa ne pensate voi, cari spettatori? Questa storia potrebbe avere un fondo di verità, o è soltanto l'ultima di una serie di leggende metropolitane che circondano le figure pubbliche? Condividete le vostre opinioni nei commenti. Se questa vicenda vi ha intrigato e desiderate seguire da vicino le ulteriori evoluzioni, non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale. La vostra partecipazione è essenziale per noi e per la comunità che insieme stiamo costruendo. La storia di Albano Carrisi e del presunto figlio segreto Albanino continua a tenere con il fiato sospeso sia i fan che un pubblico più ampio, dimostrando ancora una volta come la vita delle icone della musica possa riservare sorprese e misteri che vanno oltre le note delle loro canzoni. Rimanete sintonizzati per nuovi aggiornamenti su questa e altre storie che intrecciano la magia della musica con i misteri della vita. Grazie per averci seguito.